Quando ho visto il video del comico genovese Grillo che ha provato a giustificare i divertimenti del figlio, mi è venuto in mente un altro episodio sempre accaduto a Genova più di 170 anni fa. È successo che nel 1849 a Genova c'è stata un'insurrezione contro i Savoia. L'insurrezione è stata repressa con pugno di ferro dal generale Alfonso Lamarmora che ha fatto saccheggiare interi quartieri della città e violentare le ragazze che ci abitavano. L'episodio è raccontato non da un cattolico, da un liberale, da un rivoluzionario, da un massiniano, Giorgio Asproni, nel libro che ha scritto, che si chiama Diario Politico. In questo libro Asproni ricorda come abbia avuto la confidenza di un ministro, Sabaudo Ricci, questo è stato un ministro dell'interno del Regno di Sardegna. Ricci ha raccontato a Asproni di aver rimproverato la marmora per l'indegnità del comportamento dei suoi soldati. Ma la marmora gli ha risposto. I soldati erano bei giovani e in quelle violenze le donne avevano pure provato un piacere. Ricci, del tutto spiazzato, ha risposto così al generale Lamarmora. Auguro, signor generale, fortuna e piacere uguale a sua moglie e alle suoi figlie. Ecco, questo fatto indegno mi è venuto in mente a proposito del genovese Grillo perché, salve le distanze infinite fra la monarchia Sabauda che dicevano costituzionale, che invece è stata il contrario stesso di quello che la Costituzione diceva perché ha infranto tutti gli articoli dello Statuto, come ho dimostrato in tante pillole. Non solo allora c'era appunto la monarchia, una monarchia cosiddetta costituzionale e morale che doveva insegnare la morale a tutti gli altri in nome della Costituzione per l'appunto. Ecco, oggi siamo in una Repubblica, una Repubblica progressista in cui uno, secondo Grillo, uno vale uno. Tanto progressisti, progressisti, democratici, noi siamo in una Repubblica fondata sul lavoro. A quanto pare però il lavoro per i giovani, sia quello per i giovani che sono intervenuti a Genova nel 1849, sia quello per i giovani di oggi, sarebbe piuttosto non un lavoro ma un divertimento, chiamiamolo così.